Per la prima volta a Napoli, al Palazzo delle Arti, arriva il mondo senza parole del disegnatore argentino Guillermo Mordillo. Nell'edificio di Via dei Mille è stata inaugurata la sua prima grande retrospettiva intitolata Mordillo, un mondo senza parole. In mostra sino al primo aprile 110 tavoli originali, libri, pupazzi e cartoni animati. Colori vivi e personaggi comici capaci di trasmettere una naturale gioia di vivere e di descrivere il suo mondo colorato e fantastico dove dominano il gioco e il riso. L'esposizione dà il via all'ottava edizione del progetto per ragazzi Giro Giro Tondo Cambia il Mondo, organizzato dall'associazione Colibri in collaborazione con l'assessorato alla cultura e al turismo del comune di Napoli. Il PAN è il luogo dei linguaggi contemporanei, Mordillo nella sua capacità di essere comunicatore universale attraverso la satira e il sorriso è un comunicatore contemporaneo. Il suo linguaggio è stato veramente universale, tra l'altro lui ha uno spirito contemporaneo anche nei suoi quasi 80 anni adesso, ha una capacità di racconto e di osservazione che è al di là dell'età, lui è giovane dentro. Da 50 anni generazioni intere di ragazzi sono cresciute con i suoi disegni, i poster, i diari e i puzzle. Al PAN l'artista porta in mostra le sue grandi tavole originali in un percorso espositivo diviso in cinque sezioni arrivato dal Museo Luzzati di Genova. Dopo essere nato e cresciuto in un quartiere di Buenos Aires in una famiglia di immigrati spagnoli, Mordillo ha prima vagato per l'America Latina per poi trasferirsi a New York, poi a Parigi e ora a Monte Carlo. Oggi sono molto impressionato perché ho visitato la parte antica di Napoli, è una cosa incredibile, è difficile in qualche minuto, qualche ora di sapere cosa è esattamente, non è possibile ma io ho fatto una forza per capire, Napoli è tutto il colore, è bella, molto bella.